Musica Bentrovati cari amici di Padre Pio TV e bentrovato buona domenica a Don Pasquale Pio che come sempre torna a trovarci in ricomincio da te. Buona domenica a te e buona domenica a tutti. Allora Don Pasquale oggi facciamo una chiacchierata sul Natale, mancano pochissimi giorni, io incontrerò dopo di te Don Nazareno Galullo che vive il suo Natale in Africa e subito dopo il nostro Vescovo Padre Franco Moscone. Però con te voglio proprio soffermarmi sul suo messaggio di Natale. Qui si parla sempre di tempo sospeso, di caffè sospeso, di una tradizione di Napoli, del pasto sospeso. Cioè tutto è sospeso in questo periodo soprattutto. Cosa significa questo tempo per noi? Come dobbiamo viverlo soprattutto in attesa del Natale? Come ci suggerisce il nostro Vescovo, vivere il Natale in maniera sospesa forse significa alimentare ancora di più dentro di noi quel senso di attesa speranzosa di fronte al grande mistero di Dio che entra nella nostra storia e si fa carne. Lo condensa molto bene Padre Franco nel suo messaggio augurale alle istituzioni, ai membri non solo del popolo di Dio, ai cristiani, ma anche a coloro che si occupano della protezione, alle autorità civili e militari. Lui fa iniziare il suo messaggio proprio da tre puntini di sospensione che rendono molto bene, forse da un punto di vista non solo grammaticale, non solo sintattico, ma anche esperienziale. Ci danno l'impressione di questo tempo sospeso perché effettivamente la pandemia ha messo un po' in stand by quelle che sono le nostre consuetudini, le nostre abitudini, le nostre tradizioni. È vero, ha fatto tutto questo il Covid-19, però ci ha dato un nuovo senso di responsabilità e la nostra responsabilità va messa in campo non solo nel porre freno ai moti di questa epidemia, ma soprattutto nell'iniettare nelle vene della storia, riprendendo un'immagine famosa di Don Tonino Bello, un po' di fiducia nel futuro, un po' di speranza, che è questa virtù fondamentale per noi cristiani che oggi sembra essersi un po' persa. Ma Padre Franco riporta un po' l'asticella dell'attenzione su un termine che gli è particolarmente caro, che è quello di conversione, che etimologicamente significa cambio di mentalità, dall'idea di un tornare indietro, di uno sterzare, per ritornare un po' all'origine, agli sorgenti di chi noi siamo. E certo la conversione è una sfida per tutti ed è una sfida transdisciplinare, è qualcosa che coinvolge non solo l'ambito culturale, l'ambito istituzionale, ma coinvolge anche per esempio l'ambito economico, ci dice Padre Franco, l'ambito culturale, l'ambito politico, l'ambito ambientale, educativo. Tutti i settori della società sono coinvolti in questo dinamismo profondo di rinnovamento e forse questo tempo che ci sta davanti, e non solo come tempo liturgico in preparazione al Natale, ma anche come tempo civile di preparazione all'anno nuovo, può essere una buona occasione per tornare a chiederci chi siamo, tornare a riflettere sulla nostra identità certamente cambiata dopo questo periodo un po' turbolento e brutto che abbiamo vissuto, ma accompagnato sempre dalla presenza misteriosa di Dio. Bellissime le tue parole Don, come sempre il tuo messaggio arriva anche se oggi abbiamo qualche problema di collegamento con Skype, vabbè, è questo insomma che ci aspetta in questo senso, ci dobbiamo adattare, però insomma le parole sono arrivate, il messaggio anche, e su questo ci si può riflettere. Ovviamente questo tempo del coronavirus che stiamo vivendo, che di regale ha soltanto il nome effettivamente, corona, ci ha fatto anche capire che siamo tutti uguali, lo abbiamo più volte sottolineato, senza distinzione tra ricchi e poveri, giovani e anziani, nessuno è immune. E io a proposito di sospensione, di tempo sospeso, voglio ricordare che Seneca scrisse, nella brevità della vita, tu sicuramente la conosci questa sua frase, in realtà non è vero che di tempo ne abbiamo poco, piuttosto ne sprechiamo tanto. Questo in particolare non è tempo sprecato e lo abbiamo detto più volte, proprio perché potrebbe essere un antidoto per spendere bene questa vita, questo spazio di vita, questo lasso di tempo, dando un senso alla nostra esistenza ogni giorno, in vista del futuro, insomma. Anche Papa Francesco ce lo ricorda, perché c'è una grave possibilità di fronte a noi, che è quella di sprecare l'occasione per crescere e per migliorare, che nonostante tutto questa pandemia ci dà, è una scelta di responsabilità come cristiani, come credenti che dobbiamo fare, quella di cercare di vedere in questo frangente storico, particolarmente terribile un po' per tutti, l'occasione che ci fa sentire privilegiati interlocutori di Dio che ci chiama a rinnovarci. Ecco anche Sant'Ambrogio lo diceva, non esistono tempi difficili, noi diciamo spesso che i tempi sono bui, che i tempi sono difficili, ma iniziamo a cambiare noi, allora vedremo che insieme a noi cambieranno anche i tempi. E' un bel collegamento che mette insieme il tempo con la conversione di cui il nostro Vescovo ci parla abbondantemente nel suo messaggio di auguri. Non voglio dire che passiamo dal sacro al profano, però in un certo senso ascoltiamo anche la voce di un laico, il nostro amico che ci accompagna con i suoi caffè per riflettere, lui parla di vite sospese, non potevo che recuperarlo. Donna, ascoltiamo insieme. Ascoltiamo. Come facciamo a convivere con le storie che lasciamo in sospeso? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Ci sono serial tv che ho seguito fino a poche puntate dalla fine e poi ho smesso di guardare. Lost, per esempio, non ho mai saputo come va a finire. Mi mancano le ultime 4-5 puntate e non le ho viste. Lo stesso è il Dr. House, mancano poche puntate alla fine. Eppure mi sono rifiutato di guardarle tutte fino in fondo. E così con altri serial, non quelli che abbandoni dopo 1-2 puntate perché non ti piacciono. No, quelli che guardi quasi fino in fondo e poi è come se prendessi un libro, magari anche un giallo, e non vuoi leggere le ultime 20-30 pagine. Quelle che spiegano tutto. Perché? Me lo sono chiesto più volte e forse non ho ancora una risposta. Ma è, credo, quel senso di non voler mettere fine su qualcosa che ha significato, ha importanza. Finché non vedi l'ultima pagina, quella storia va avanti, quei personaggi sono ancora con te. Perché? Quel momento che stai vivendo è ancora lì. E questo credo che sia un tratto che caratterizza un po' il mio spirito, il mio animo. Non voler abbandonare le cose, non voler abbandonare le persone. Cercare di rimanere sempre in contatto con gli altri. Che sia una cosa buona o sia una patologia, non so dirlo. Lo posso solo constatare. E c'è questo interesse per sapere che fine hanno fatto le storie degli altri. Come continuano, come proseguono. Perché volerli sentire sempre vicini è qualcosa che per me è importante. E allora mi chiedo, questo può essere un tratto utile anche dal punto di vista professionale? Può essere un tratto utile dal punto di vista amicale? O è soltanto un profondo egoismo? Ovviamente non ho nessuna risposta. Se l'avessi avrei forse visto alla fine di quei serial. Perché mi sarei messo il cuore in pace. Quello che non capisco è da dove nasca quest'ansia. O forse lo capisco così bene che ho paura anche a darmi la risposta. Buongiorno e buon caffè. Ecco qua. Allora grazie Paolo. Don, non è che abbiamo tutti paura un po' di quello che ci aspetta dopo? E di non voler vedere come va a finire? Come diceva Paolo, lui parlava di serie tv. Ma ovviamente noi lo stiamo proprio vivendo dal vivo. Certo, abbiamo un po' di paura. Perché il domani rappresenta un po' la cifra dell'ignoto per noi. E l'ignoto ci fa sempre un po' paura, ci mette sempre un po' in subbuglio. Però per noi cristiani significa anche speranza. La speranza di saper guardare oltre l'apparenza dei tempi che ci sono davanti. Dei giorni apparentemente monotoni che viviamo. E' come sempre una virtù che ci proietta oltre ciò che vediamo. E ci apre alla visione di Dio. Alla visione che Dio ha sulle cose, sulle persone, sulla realtà in generale. Noi abbiamo la speranza certa che Dio guida la storia. E siccome Dio guida la storia, noi ci fidiamo di Lui. Siamo veramente figli. Nelle braccia del Padre che ci conduce verso un porto sospirato. Che è salvezza per noi ed è gioia per tutti. Grande. Grazie Don Pasquale. Siamo felici di averti avuto anche oggi qui. Ultima domenica di avvento, qualche giorno ancora e siamo a Natale. Che sia anche quest'anno Natale, come dice il Padre Franco. È vero Don? Lo sarà, lo sarà. Allora, tanti auguri di cuore a te. Grazie di tutto. E ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie a te e buon Natale a tutti. Ci vediamo senz'altro settimana prossima. Sì, se non mi perdo in Africa, perché tra poco vado in Africa per il Natale. No, 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 non c'è bisogno. Ciao, aspettate voi. Ciao Don. Ciao.